Presidente dell'UNSI, Tramis, sta seguendo la campagna elettorale, che cosa vorrebbe vedere per Mentana? Buongiorno innanzitutto, un po' di cambiamenti anche a livello di pulizia, a livello sociale, perché purtroppo in questi due anni di fermo, non per colpa nostra, diciamo di fermo per la pandemia, un po' nel sociale ne abbiamo perso tutti, quindi qualcosa in più anche sotto questo aspetto. Che campagna elettorale le sembra? Le hanno chiesto già in tanti il voto? Sì, chiaramente adesso si avvicinano tutti quanti per chiedere, anche se a volte magari prima non ti si avvicinavano, non dico per salutarti perché il saluto è di tutti, però effettivamente in questo periodo si avvicinano molte più persone per chiedere come va, come non va, se va tutto bene. Alla fine voterà la persona, quella che conosce, che le dà fiducia oppure più l'ideologia, più magari i partiti? A livello comunale secondo me andrebbe votata la persona che si ritiene più idonea per questi altri cinque anni che verranno per fare qualcosa in più per il nostro paese, per la nostra città, quindi sicuramente la persona. Grazie. 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 Grazie.